Steph ho preparato una cosa per te Che cos'è Fere? Una tazza piena di bigliettini Una tazza piena di bigliettini E che cosa sono questi bigliettini esattamente Fere? Per i video di oggi Steph Per i video di oggi Ok sì quello l'ho capito Ma che cosa c'è scritto dentro Fere? Ci sono dei temi per una gara di vestiti Dei temi per una gara di vestiti Quindi praticamente io dovrei estrarre un bigliettino a caso Capito dubito Steph Leggere che cos'è E noi ci dobbiamo vestire con questa categoria? Sì esatto Ok Ragazzi come va? Io sono Fere Niki E io sono Steph E oggi siamo qui con un nuovissimo episodio di GTA Questa volta proveremo qualcosa di un po' diverso Perché sì come avete visto nel pre-intro Proveremo a fare una gara di vestiti Esattamente Allora qui dentro ci sono dieci bigliettini Ci sfideremo in cinque categorie di vestiti diversi E sarete voi a votare qual è l'outfit migliore Quindi per ogni outfit che noi faremo ci sarà un sondaggio Vi dovrete votare se il mio outfit o quello di Fere è il migliore Molto 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 semplice e sarà anche molto divertente Fere chi inizia a pescare? Io Io Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Tua roba Tua pescaggio Vai Sto mescolando Mi piace come me Allora se mi casca sta tazza io rompo tutto Professionale Fere Professionale Professionale Vado Ok Sei pronto? Voglio pescare da sotto Aspetta voglio pescare il più fondo possibile E vabbè Mo' ci fa anche la suspense Che cos'è? Oh questo è bello Appuntamento romantico Appuntamento romantico come primo Sì 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 Ok Questo è difficile Ok Questo è abbastanza complicato Vabbè Entriamo nel negozio Fere ma ci diamo anche un limite di soldi e di tempo Oppure tutto Come vogliamo Secondo me lo Cioè voglio dare libero sfogo alla fantasia Però io darei un limite di tempo per diciamo tutelarmi dalla tua lentezza No dai c'è Cerciamo di fare cose ragionevoli Ti romperò le scatole Nel senso non spendere troppissimo e non metterci a cuore Ovviamente non vale utilizzare i completi già fatti Quindi dovremmo prendere magliette, scarpe, pantaloni Ogni cosa singolarmente Quindi è un pochettino di difficoltà in più Io parto Ok non spiare Steph Perché piano piano poi ci vedremo Quindi non mi spiare Perché dovrei spiarti Eh perché poi magari Cosa me ne frega di vederti Magari mi copi Capito Allora Vediamo un po' Quindi per un appuntamento romantico Posso farlo sia in chiave ironica sia in chiave seria Come vuoi Come vuoi Diciamo che le prime cose che trovo mi fanno già venire voglia di trollare Vabbè sappiamo un po' come sono i vestiti Sì Non è che sono proprio Però per adesso Cosa stai trovando Ok 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 Mi piace molto questa Devo soltanto scegliere un bel colore Perfetto 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 Sembra un video musicale di una canzone che mi piace molto Hai già fatto? No vabbè Soltanto la giacca Capisci L'inizio L'inizio Poi vediamo un po' Ho finito Steph Incredibilmente Ci ho messo meno di tempo Allora Attenta a non guardare il mio No no Non sto guardando Sono fuori che ti aspetto Quando mi vedrai mi spaccare la faccia Forse anche tu a me Non lo so Allora Il mio è in chiave totalmente ironica Lo inizio già a dire Ma proprio forse In modo eccessivo Un po' e un po' Diciamo che è successo questo Sono partite in modo serio Poi ho visto certe cose E non sono più riuscita a rimanere serie Ok Quindi diciamo che parte bene Ma poi finisce un po' male Ok Mettila così Bene 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 Il mio parte male Finisce male Ok Ho già capito Ok Così Adesso mi servono gli accessori Le scarpe E sono pronto a farmi vedere Sto cercando di trovare La scarpa perfetta Per questo outfit Perché comunque Bisogna trovare la cosa giusta Va bene Non lo sto trovando E quello è il problema Ah Allora c'erano Ok Ok Perfetti Questi sono perfetti Adesso mi mancano gli accessori E ci siamo Cos'hai combinato però Steph Che stai ridendo troppo Mamma mia Vediamo Ok Perfetto Poi Entrambi Certo Sì Perché bisogna averli entrambi Sì mi piacciono molto Ok Io non ho no idea di quello che tu stia combinando Questo è un tocco che secondo me apprezzeranno tutti Ok Se lo dici tu No però forse rovina No 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 dai Lasciamo perdere Lasciamo perdere Allora vediamo No No forse ho finito Forse ho finito Aspetta Ok dammi un secondo Finisco le scarpe E andiamo Il tocco finale Perché comunque sono una persona seria Per un appuntamento romantico Vai ti aspetto fuori Fere sei pronta? Oh mio dio Steph Allora Per ora restiamo a commentare il tuo Poi pensiamo al mio Ok Allora Mi dovrò trattenere tantissimo Mi spieghi cosa c'entra il vestito anni 50 Con quella collana lunghissima Con che cos'è? Un mazzo da biliardo? No allora innanzitutto stai già sbagliando Il vestito è il charleston Quindi tipico degli anni 30 Negli anni 30 si usavano quei capelli E quelle collane Quindi ho fatto un perfetto abbinamento anni 30 Ok Scusami E tu che non ne capisci niente Va bene E l'arma a che serve? Perché nel caso vada male l'appuntamento Ah E com'è Bisogna sempre andare armati Non si va No no Hai ragione E comunque una cosa bellissima che non hai notato Allora Ti devi avvicinare i miei orecchini E dirmi cosa noti Giusto per far capire È la K quella Ferrer Sì È la K47 Ma sei seria? Allora tu questi orecchini Devi andare in una giuliera E farmi li fare uguali Mai Perché io li voglio e li voglio me Guarda siamo vestiti di rosso uguale Vabbè Allora apprezza il mio outfit Allora spiegami cosa hai pensato tu Per un appuntamento romantico Cioè nel far west l'hai pensato All'appuntamento romantico In che epoca Allora io stavo cercando la parte alta Qualcosa di elegante E mi è comparso sto pellicione Mi sono visto a petto nudo E con sto pellicione E ho fatto no Che devo farlo Sondaggino Votate quelle delle due preferite Mettiamoci vicino Così li rivedono bene Scusate Mentre che votano Li rivedono bene Hai ragione Guardate che belli Numero 1 Numero 2 Votate E decidete quelle preferite Adesso farei dammi la tazza Che estraggo la nuova categoria E vediamo un pochettino Che cosa ci capita Allora io vorrei una cosa Nello specifico Ok Non te la dico Però Vediamo se capiterà Spero che capiterà Vediamo Vediamo Ok Allora Ok Ok Ti piace No Questo è tosto Questo è uno dei più difficili Vestiti Tutto Di rosso Quindi ci dobbiamo fare Un abbigliamento Completamente Rosso Ok Sì questo infatti Era un tema bonus Per aggiungere qualcosina Andiamo Andiamo Ciao Steph Allora Fammi guardare bene Il tuo outfit Scarpe rosse E stivali Abbastanza sportivi Pantaloni rossi Abbastanza normali Tutta tipo da Da motociclista Allora Io ho visto la tuta Da motociclista Ok E ho detto Mi faccio un bel motociclista Tutto rosso Che ci stava Col casco rosso Che ci sta Rosso e bianco Sì Che ci sta bene Il problema è che poi ho trovato Solo nelle scarpe C'erano di rosso Solo gli stivali da cowboy Quindi sono mezzo cowboy Allora Praticamente sono un cowboy Che anziché i cavalli Sta in sella I cavalli della moto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Attenso Attenso Mi piace Diciamo che Il mio è fatto meglio Perché sono proprio Quello che gioca Nella squadra di football americano Con la giacca classica Il cappellino All'avanguardia Mi è uscito Madonna queste cose fighe Non c'erano Adesso Capito Metti in mezzo il senso Furba lei In ogni caso Consolini votate Sondaggino Anche per questo outfit Quindi era tutto rosso In generale Noi dovevamo Diciamo dargli un senso Certo Quindi io l'ho giocato Sul senso di giocatore Di football americano E Ferri di pilota Pilota cowboy Che anziché i cavalli veri Cavalli della moto La deve ridire Capito La deve pure ripetere Ha senso Consolini Ha senso Ha senso Ha senso Nulla di più bello Vai Giusto come l'ho pensato io Vai 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 Tira fuori qualcosa Da quella tazza Così fai silenzio Dimmi almeno una bella notizia Sportivo 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 Siamo entrambi sportivi Adesso Guarda Però sportivo Magari lo facciamo più Da palestra Qualcosa da palestra Ok Ok Andiamo 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 Devo cercare qualcosa Per lo sportivo Io avrei in mente Un po' come farlo Però vediamo Cosa mi dà a disposizione Il gioco Tipo Queste magliette Non sono adatte Non sono Per lo sportivo Che sto pensando io Capita Cioè Sono magliette Sportive Per uscire Però Ci sono cose sportive Ma non da sport Eh Brava Brava Esatto Sto avendo lo stesso Aspetta Maglioni sportivi Neanche Ma dove sono le cose Sportive Reali Allora Non so sinceramente Se ci sono Tutte proprio Vere e proprie Non lo so E potrei fare questo Interess Eh Questo è interessante Allora Non mi piace molto Come sport Però È interessante Altrimenti potrei fare questo E fare basket Fare basket È il giocatore di basket Fere Dai sì Proviamo Vediamo se trovo tutto Nel caso Ho sprecato Qualche soldo Fare dove sei? Qui Ok 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 Allora tu cosa hai fatto Più o meno Io sono un giocatore Da basket Sì 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 Guarda Io penso di essere una che fa yoga Sinceramente L'abbigliamento mi sembra quello Hai ragione Hai ragione Hai ragione Ci sta abbastanza Ho fatto comunque due sport Lo yoga Lo yoga e il basket Vediamola così Il mio può essere anche da jogging Però un po' di corsetta La puoi fare Guarda come ho messo anche la collana Per proprio entrare Nello spirito La collana e gli orecchini Ti fai male Se giochi a basket Così non si mettono Quando giocano per strada Guarda Proprio Anche 15 collane Devi giocare nei posti giusti Ma perre ma mi hai visto Come sono ridotto Ma secondo te Mi fanno giocare nel posto giusto A basket No 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 Più o meno Io sono di quelli che gioca Nei campetti In giro per strada In città Capisci Quindi ho un look Allora ci sta Sotto quel punto di vista In ogni caso Consolini votate Yoga contro basket Fateci sapere Quali preferite Yoga Per non provare a fare propaganda Passami la tazza Che devo pescare Siamo al quarto E penultimo outfit Vai 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 E vediamo un pochettino Che cosa capita Vediamo 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 Sono curiosa Ne voglio uno proprio bello Uuuuh Questo è interessante È il mio preferito Fuori stagione totalmente Capisci? Invernale Yes Io speravo Sai cosa speravo? Gangsta Eh lo sappiamo Che tu vuoi gangsta Quello è ovvio Invernale Invernale può essere interessante Ci possiamo divertire parecchio Soprattutto molto diverso Quindi sono curiosa Allora inizio a guardare Subito le parti superiori Perché dovrebbero esserci Da qualche parte I giubbottoni Esatto 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 Io voglio proprio qualcosa Tipo da sci invernale Sarebbe figo Sicuramente qualcosa Allora cerchiamo 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 Ditemi che non sono fantastico Cosa hai combinato Quasi finito Quasi finito È il miglior Diciamo Outfit che ho fatto Fino ad ora Sono soddisfatissimo È davvero davvero carino Secondo me Rappresenta perfettamente L'outfit invernale Tu hai finito? Eh sì dai Lascio così Ok guardami Dimmi che non sono bellissimo Vabbè sei più da sci però Eh beh L'outfit invernale Vacanza invernale Scusami Da vacanza invernale Vabbè città Era invernale in generale Invernale da città Ah tu proprio da città per uscire Da città Ok allora Stivalotti rosa carini Jeans Allora devi notare Che gli stivali Sono abbinati alla maglietta No al capotto e alla maglietta Tutti e due Ah perché grigio rosa Ok ok Capisco La cuffietta che ovviamente Torna al Al colore della maglietta Eh sì che quest'outfit Tu dovresti tenere in generale Lo so mi piace un sacco È carinissimo Vabbè adesso poi non ho fatto Quello estivo Eh lo so Ma lo tengo per l'inverno Però è molto molto carino È anche una collanina così Giusto Ok allora Mettiamoci uno a fianco all'altro Così ci possono confrontare Proprio uno vicino all'altro Vieni qui a fianco a me Fere Ok Consolini votate E siamo arrivati Al quinto round Quindi preparatevi Per l'ultimissimo round Fere sta sperando Che sia gangster Però chissà Sarebbe bello Sarebbe bello In ogni caso tocca a te mescolare Quindi è tua la responsabilità Bello bello Hai una possibilità su sei Fere È difficile eh È difficile trovarlo Io te lo dico Vediamo Però hai qualche chance VIP star Uuuu Non è come il gangsta Però mi piace il star Questo è divertente Bello Questo è divertente Quindi ci possiamo atteggiare da VIP Questo è bello Non so che sarà in vantaggio A questo punto Non lo so eh Non lo so Però dato che siamo al quinto Teoricamente potremmo essere due a due E questo potrebbe essere decisivo Quindi concentrati Fere E farlo bene Ok Perché qua si decide chi vince E qui la festa E arriva Steph il VIP Steph sembra un giocatore di golf Però scusami Ti sembra di essere VIP Sì 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 Ti sembra Non era neanche No allora sì Allora i pantaloni ci stanno Le scarpe ci stanno E qui il gilet Il gilet sembra da golf Non hai trovato uno un po' più carino Steph smettila dai Così sei perfetto Così sei perfetto Così sei perfetto Ti odio Però alla fine ci sta Perché comunque quasi sempre Le persone famose vanno a giocare a golf Non ti perdono Quindi magari tu sei un VIP Che ha appena finito la sua partita di golf Allora Ok Scarpe con tacchi Jeans Ok Camicia in pelle Ho proprio un VIP stravagante Ok Ok Ho fatto tutto l'abbinato sul leopardato Che lo usano solo i VIP Quel tipo di Di fantasia Gli occhiali sculi Per non farmi riconoscere Anche il cappello Per passare in osservati Quindi non avere Tutti i fan che mi acclamano Quando vado Not bad Allora Consolini votate Decidete qual è l'outfit migliore Fede sta facendo pure la passerella Qua nel mentre No fa vedere bene tutto Mi sembra E voi avrete appena deciso Chi ha vinto Noi non possiamo festeggiare Perché ovviamente Non lo sappiamo Però fateci anche sapere Se lo vorreste rivedere In futuro Perché abbiamo appunto Altri 5 outfit Nella tazza Che si potrebbe utilizzare Più Tanti altri outfit Che ci potete proporre Nei commenti Quindi Diciamo che è un format Che si potrebbe riproporre Fateci sapere Se vi è piaciuto Nel caso Tanti likes Il sondaggino Non possiamo metterne Perché ne abbiamo 5 di massimo Quindi saranno I 5 sondaggi Per decidere Quali sono gli outfit migliori Ma quindi fateci sapere Nei commenti E con i likes Bene che sia già così Sì è tutto Lasciateci un bel like E se la prima volta Che avete il nostro video Potete concentrare La like Iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.